grazie ragazzi e vi su canale ragazzi come sono andate già detto dal titolo e domande di cortina oggi facciamo napoli inter ragazzi a apriamo arti 10 ragazzi questo è un altro prognostico ragazzi 10 prognostico ragazzi ok ragazzi ora ragazzi apriamo ragazzi poi vediamo il prognostico ragazzi con le figurine panini ragazzi le mettiamo qua abbiamo il primo ok troviamo troviamo cornelius poi 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 del nato buga poi aiken a de pulgar ok ragazzi niente ragazzi posso perché tra ragazzi ok diciamo antonio conte e rei antonio con 1 a 0 per l'inter ragazzi poi pisa lozano poi conter e castiglietto poi apriamo il prossimo ok allora lo accorriamo vediamo che troviamo oh dell'inter devrai 2 a 1 per l'inter poi tra della parte non è sassuolo parma croatune qui lì ne sta vincendo al momento apriamo a sfruttare cosi napoli non è sfruttare poi vediamo e apriamo ok si è sembrato maia del parma 3 del portinone l'album e e pedro pedaglia del croatune ok apriamo il prossimo pacchetto ragazzi ok ragazzi 3 del cosenza 3 del breccio 3 del benedio pulsetto pulsetto del grise e e e bruno perso tra l'ordine ricordi ci metto qua orientate ovviamente il copro sino non lo riferite ok 3 del pescare 3 del cosenza 3 della città forestieri giocatore giocatore dell'inter che sta in presto allora all'utilizzo il è il luogo della serie quindi l'inter sarà visto ancora ok animati 3 della salentano napoli arriva a pareggio con gol di di lobotica poi 3 del l'accia vital leader passa subito il bandaggio col di altro vital stemma della fiorentina ok ragazzi ultimi 3 pacchetti ragazzi poi lo può terminare ok 3 della cremonese il 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 bari femminile il crotone lupert ex napoli dominguez della bologna e era mila della juventus il bellino pacchetti ragazzi del video e poi il termine ok ragazzi vediamo maglia del calo 3 del chievo galabinov dello spezia roger della sassuola e il tesquitting del foggio i vestabia o il monopoli o il pacchetti ragazzi l'ultimo pacchetto qua vediamo se finirà qui o no maglia della fiorentina 3 del monza ma stemma del genoa e bonifazzi dell'udice qui ragazzi la partita la finisce l'inter con con gol di di andanovic di devrai e di bidon poi lo lo zano e la vodka l'inter secondo me vincerà qui ragazzi c'è il posto di video con l'inter 2007 10 ciao l'inter che